Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro a quel video. Oggi sono qui per parlarvi di una coppia di serial che in molti di voi mi hanno richiesto. In questo video parliamo di Martha Beck e Raymond Fernandez, ossia gli assassini dei cuori solitari. Ma come al solito andiamo con ordine. Martha Jule Beck nasce a Milton in Florida il 6 maggio del 1920. Sviluppa un problema ghiandolare che la fa entrare presto nella pubertà. All'età di 10 anni Martha ha il fisico di una donna adulta e ha anche un desiderio intimo impossibile da soddisfare a quell'età. Tuttavia già all'età di 10 anni è notevolmente in sovrappeso. Ovviamente non siamo qui per giudicare la linea di Martha, ma questo aspetto gioca un ruolo fondamentale per questo caso. Quindi non posso astenermi dal dire queste cose, anche se sono contraria a qualsiasi forma di body shaming. Vorrei metterlo in chiaro per evitare fraintendimenti. L'obesità per Martha è una dannazione. La rende un bersaglio facile per i bulli della scuola, ma anche sua madre non ci va affatto leggera. Quando Martha torna a casa in lacrime per confidarsi con lei, la donna la prende in giro e le dice che se lo merita perché è orrenda. Per di più, ogni volta che un ragazzo manifesta interesse per Martha, sua madre Giulia lo insulta, lo minaccia. Questo comportamento fa allontanare tutti i potenziali corteggiatori di Martha. Poco prima di entrare nell'adolescenza, Martha continua ad essere il centro degli insulti e delle battute estremamente crudeli dei suoi compagni di scuola. Questo la fa chiudere sempre di più in se stessa. Diventa una ragazza solitaria e non ha nessun amico della sua età. Al termine della scuola si trasferisce a Pensacola, in Florida, per frequentare una scuola per infermieri. Si diploma nel 1942 ed è molto brava Martha, è la prima della sua classe. Tuttavia, ahimè, l'incubo del peso la perseguita. A causa del suo aspetto ha enorme difficoltà a trovare lavoro nel campo infermieristico. Di conseguenza inizia a lavorare per un'impresa di pompe funebri, dove veste e trucca i corpi delle donne da seppellire. Nell'ambiente delle pompe funebri, se possibile, Martha diventa più sola di prima. Probabilmente sviluppa un conforto per i cadaveri che la circondano, sia di giorno che di notte. Lo so, è brutto dirlo, ma in un certo senso Martha vive tra i morti. Lo scherno e le critiche subite dai vivi non è presente in compagnia dei defunti. In ogni caso, dopo meno di un anno, Martha questo lavoro non lo sopporta più. Vuole avere una vita sociale, un lavoro che le permetta di farsi qualche buona amica, quindi decide di stabilirsi in California. Una volta arrivata, riesce finalmente a trovare lavoro come infermiera nell'ospedale dell'esercito. A questo punto, le notte di Martha mutano. Inizia ad uscire nei bar locali, dove riesce ad attirare l'attenzione di molti soldati. Uno di questi incontri porta a Martha una gravidanza. Tuttavia, il soldato che la mette incinta non è assolutamente interessato ad avere una relazione con lei. E, quando scopre che la donna è in dolce attesa, tenta il suicidio. Martha, chiaramente, a seguito di questo gesto, non riesce a convincere l'uomo a sposarla. Si vergogna tantissimo del fatto che quell'uomo preferisca morire piuttosto che sposarla. Di conseguenza, Martha torna in Florida, più triste che mai. Quando la ragazza torna a Milton, si rende conto che deve trovare un modo per spiegare la sua gravidanza al prossimo. Ed è a questo punto che le viene in mente di creare una storia su come aveva incontrato un ufficiale della marina mentre era in California. I due si erano anche sposati. Martha acquista una fede nuziale e la indossa con orgoglio quando esce e va in giro per la città. Tuttavia, Martha, raccontando quella bugia, fa credere a tutti che suo marito sarebbe tornato dal Pacifico. E tutti, chiaramente, sono ansiosi di incontrarlo. Martha, però, sa bene che quel giorno non sarebbe mai arrivato, quindi deve inventare un'altra storia, un'altra bugia. La ragazza trova il modo di farsi recapitare un telegramma con un messaggio davvero tragico. Suo marito è morto nel Pacifico. Quando Martha riceve la notizia, cade in un attacco isterico e l'intera città si unisce al lutto. I giornali locali arrivano addirittura a stampare la sua storia per farla leggere a più persone. Ed è a questo punto che Martha finalmente riceve simpatia e attenzione, quelle due cose che desidera da sempre. Mentre le persone attorno a lei la consolano per la perdita, dà la luce Willa Dean, la sua prima figlia, nella primavera del 1944. Un paio di mesi dopo la nascita di Willa, Martha incontra un autista di autobus di Pensacola, di nome Alfred Beck. Poco dopo essersi incontrati, Martha scopre di essere incinta di nuovo. Qui però la situazione cambia drasticamente, perché Alfred si sente così tanto in colpa da proporle di diventare sua moglie. Ovviamente Martha accetta ben volentieri la sua proposta, quindi i due si sposano alla fine del 1944, sei mesi dopo il matrimonio, però la coppia divorzia. Martha dunque rimane da sola, di nuovo. Questa volta però la situazione è ben diversa, perché Martha ha due figli piccoli di cui deve prendersi cura e dato che è stata licenziata ormai l'anno precedente, non ha neanche un reddito per mantenere se stessa e i suoi figli. Il divorzio dunque induce Martha a ritirarsi nel suo mondo autocostruito, incentrato su molti romanzi rosa. Tutte queste letture le riempiono la testa di sogni. Martha a questo punto sogna di trovare un bell'uomo. Quel bell'uomo si sarebbe precipitato da lei e l'avrebbe salvata da una vita di disperazione e solitudine. Più di un anno dopo la rottura con Alfred, Martha riesce a trovare lavoro al Pensacola Hospital for Children. Martha è davvero un'infermiere eccezionale, è molto responsabile. La donna in seguito dirà Ho scelto questa professione senza pensare a me stessa, voglio imparare il più possibile non per guadagni materiali, ma allo scopo di aiutare l'umanità e rendere servizio agli altri. Come avrete capito, Martha nella sua vita sociale la felicità non la trova, quindi dedica tutte le sue energie al lavoro. Lavora in quell'ospedale da meno di un anno quando riceve la sua prima promozione. Di conseguenza non le ci vuole molto per diventare il sovrintendente infermiera dell'ospedale. Anche a seguito della rapida ascesa sul lavoro, Martha desidera qualcosa di più. Martha desidera l'amore, desidera avere al suo fianco un uomo che la ami e che si prenda cura di lei. Martha sogna la storia d'amore perfetta come quelle storie che ha letto per anni nei romanzi rosa sparsi per tutto il suo appartamento. Uno dei nuovi colleghi di Martha un giorno decide di farle uno scherzo davvero di cattivo gusto a mio avviso. Le inviano un annuncio tramite la posta che chiede di iscriversi ad un club di cuori solitari. Ovviamente Martha quando legge quell'annuncio scoppia a piangere, si sente umiliata a dir poco. Tuttavia la donna agisce quasi in segno di sfida e pubblica il suo annuncio. In questo annuncio Martha descrive brevemente se stessa, scegliendo di tralasciare alcune informazioni. Non dice nulla sul suo peso ed evita anche di scrivere che ha già due figli. A Martha ora non resta che sedersi e aspettare con il fiato sospeso che il suo principe azzurro le risponda. Ogni giorno quando torna a casa dal suo turno in ospedale, corre alla cassetta della posta per vedere se è arrivata una lettera per lei. Martha sogna davvero che un uomo la salvi dal dolore e dalla solitudine che le riempiono la vita. Passiamo ora al secondo protagonista di questo caso, Raymond Martinez Fernandez. Nasce il 17 settembre del 1914 alle Hawaii. I suoi genitori hanno origini spagnole e non sono affatto entusiasti quando si rendono conto che il loro figlio ha un aspetto fragile e malaticcio. Apparentemente il padre non ama molto Raymond, desidera che suo figlio sia più robusto. Nel 1932, quando Raymond ha 18 anni, decide di andare a lavorare e a vivere in una delle fattorie di suo zio in Spagna. Nel giro di due anni incontra una donna della zona di nome Encarnacion Robles. Presto i due vanno a vivere insieme e poi convolano a nozze. A questo punto Raymond è un giovane bello e forte. Ha modi gentili che lo rendono ben voluto nel villaggio locale Orgiva. Con l'inizio della seconda guerra mondiale, Raymond si unisce ai Marines mercantili spagnoli. Successivamente inizia a lavorare con l'intelligence britannica come spia. Raymond è un uomo leale e svolge i suoi doveri anche se a volte sono difficili e pericolosi. Quando la guerra volge al termine nel 1945, l'uomo decide di tornare in America per trovare un lavoro. C'è da dire che in realtà ha già un piano ben preciso in mente. Dopo aver trovato il lavoro, avrebbe chiamato Encarnacion e il loro figlio appena nato, dicendole di raggiungerlo. L'uomo riesce a procurarsi un passaggio su una nave mercantile diretta a Curaçao, nelle Indie occidentali olandesi. Mentre sulla nave rimane vittima di un tragico incidente che gli cambia totalmente la vita. L'uomo sta risalendo il ponte della nave quando uno dei coperti d'acciaio del pocaporto gli cade in testa. Questa ferita gli causa una rientranza permanente al cranio e potrebbe anche avergli causato dei danni cerebrali irreversibili. La nave attracca nel dicembre del 1945 a Curaçao e Raymond viene trasportato immediatamente all'ospedale locale. Viene ricoverato immediatamente e rimane in ospedale per circa tre mesi. Viene dunque dimesso nel marzo del 1946. Quando Raymond lascia l'ospedale è drasticamente cambiato. La sua personalità è drasticamente cambiata. Prima che si verificasse l'incidente era descritto come un uomo abile a livello sociale, con un comportamento cortese verso gli altri individui. Dopo aver subito la ferita le persone descrivono Raymond come lunatico e distante. Lo descrivono come un uomo irritabile che si arrabbia facilmente. Non sorride quasi più e i suoi discorsi iniziano ad essere senza senso. Quando parla con gli altri divaga di continuo, salta di panno in frasca, dice qualcosa per poi affermare l'esatto opposto. Secondo i registri dell'ospedale la ferita di Raymond è il risultato di un cranio fratturato con danni alla regione del lobo frontale. Quell'area cerebrale regola il ragionamento e l'apprendimento. Senza dubbio Raymond dopo questo incidente diventa un uomo diverso. A questo punto Raymond trova un altro passaggio su un'altra nave che si sta dirigendo verso l'Alabama. Il punto è che quando Raymond arriva a Mobile in Alabama fa davvero un'idiozia. Per qualche ragione sconosciuta decide di recarsi al magazzino della nave per rubare vestiti e altri oggetti contrassegnati. Mentre passa la dogana, gli agenti lo arrestano sul posto. Raymond non è in grado di fornire una buona scusa per le sue azioni. Infatti quando gli chiedono perché ha scelto di rubare quegli oggetti, l'uomo risponde. Non lo so, non riesco a pensare. Non posso dire realmente perché l'ho fatto. In realtà non lo so neanche io. Ho visto altri uomini mettere uno o due asciugamani nelle loro borse, quindi ho pensato di fare lo stesso. Solo che non mi sono fermato due asciugamani. So solo che non sono riuscito a fermarmi. Di conseguenza le autorità accusano Raymond di furto. Sconta la sua pena con un anno di carcere a Tallahassee, la prigione federale della Florida. Mentre in prigione conosce un uomo, un suo compagno di cella, haitiano. Questo compagno di cella è un seguaccio del Vudun, un'antica religione. Mostra a Raymond come praticare il Vudu e ben presto l'uomo si immerge totalmente nell'occulto. Raymond sviluppa una capacità segreta che a quanto dice gli dà potere sulle donne. Il controllo che sente di esercitare inizia con la sua fede nel Vudu. Parliamo però un attimino del Vudun. La maggior parte delle persone pensa erroneamente che la religione Vudun sia malvagia. Ebbene, non è così. È una combinazione di diverse religioni presenti in Africa. La maggior parte delle credenze che compongono il Vudun provengono dalla Nigeria. Sfortunatamente alcune persone pervertono la pratica traducendo in qualche modo la religione per trasformarla in qualcosa che racchiude solo il lato scuro del Vudu. Ed è quello che fa Raymond. Cade nel lato malvagio della religione Vudu. Crede di essere un prete? Pensa di essere in grado di ottenere dei poteri mistici concessi dalla sua posizione dagli spiriti? Inoltre legge spesso il libro pubblicato nel 1884. Intitolato Haiti or the Black Republic. Questo libro, ahimè, è la fonte della maggior parte della disinformazione associata alla religione Vudun. Quel libro, a quanto capito, descrive, ahimè, in modo rivoltante, la pratica degli esseri umani torturati e sacrificati. Raymond spesso descrive la sua capacità di avere rapporti intimi con una donna anche da una distanza considerevole. In pratica, mette delle polveri Vudu nelle buste che contengono delle lettere che lui stesso scrive. In quelle lettere, indirizzate a diverse donne, chiede loro di spedirgli uno dei loro orecchini, una ciocca dei loro capelli, uno dei loro oggetti personali ed essenziali. L'uomo avrebbe usato gli oggetti inviati per eseguire rituali Vudu con lo scopo di aumentare il controllo soprannaturale che già possiede. È convinto che le donne vulnerabili che gli rispondono sarebbero cadute ai suoi piedi, sarebbero rimaste incantate dalla persuasione intima di Raymond, il prete Vudu. Viene rilasciato sulla parola nel 1946 e decide di trasferirsi a Brooklyn, dove vive sua sorella. Raymond è convinto che avrebbe vissuto con lei. Quando arriva a New York, i suoi parenti rimangono molto delusi dal suo aspetto. Dall'ultima volta che l'hanno visto è profondamente cambiato e per loro l'apparenza è molto importante. I capelli di Raymond si sono diradati al punto che è quasi calvo e questo preoccupa la sua famiglia perché se lo ricordano con tantissimi capelli scuri. Notano anche che la cicatrice causata dall'incidente è visibile, troppo visibile per i loro gusti. Quando Raymond raggiunge casa di sua sorella, si chiude in camera da letto per diversi giorni. Si lamenta spesso dei suoi dolorosi mal di testa che lo colpiscono in continuazione. Mentre è chiuso nella sua stanza tra un dolore di testa e l'altro, Raymond inizia a scrivere tantissime lettere a diversi club di cuori solitari pubblicizzati sulle riviste. Nelle lettere che invia per poste inizia a sedurre delle donne fragili e un po' troppo ingenue che cercano uomini per salvarle dalla loro esistenza solitaria. Dopo aver ottenuto la fiducia di queste donne, Raymond prende tutto ciò che può sottrarre di valore come gioielli e contanti. Ovviamente una volta ottenuto ciò che vuole, quelle donne non lo rivedono mai più. Le sue vittime sono così tanto imbarazzate per essere state truffate, di conseguenza non presentano mai una denuncia alle autorità. Raymond si intrattiene con il club dei cuori solitari per diversi mesi. Scrive costantemente lettere a tantissime donne a caso. Molte volte prende di mira più donne contemporaneamente. Poi nel 1947 Raymond inizia a scrivere delle lettere ad una donna di nome Jane Thompson che vive con la sua anziana madre a New York. Lei e suo marito sono separati da poco, Jane si sente sola quindi ahimè vulnerabile a qualsiasi forma di gentilezza da parte di un uomo. Così Raymond e Jane iniziano in un certo senso a corteggiarsi tramite le lettere che scrivono e che si inviano a vicenda. Alla fine Jane accoglie la richiesta posta da Raymond, ossia vedersi dal vivo. In effetti la coppia compra due biglietti per andare in crociera in Spagna nell'ottobre del 1947. Naturalmente è Jane a farsi carico delle spese di entrambi i biglietti. Nelle settimane successive Jane e Raymond viaggiano insieme per la Spagna e quando prenotano le stanze d'albergo lo fanno come marito e moglie. Però non dobbiamo dimenticare che Raymond ed Encarnation sono ancora legalmente sposati. Ad un certo punto lui e Jane si recano alla linea della conception perché proprio lì vivono Encarnation e i suoi figli. Ebbene le due donne si conoscono dopodiché escono tutti e tre a spasso per la città a cenare in ristoranti locali. Il tempo che passano insieme è eccezionale e i tre si trovano davvero bene insieme, almeno fino alla sera del 7 novembre 1947. Quella sera succede qualcosa tra Jane e Raymond. Non è chiaro cosa sia successo. Alcune persone affermano che Jane e Raymond hanno iniziato a litigare nella loro stanza d'albergo. Quella notte diversi testimoni vedono Raymond lasciare l'hotel. Quando una cameriera dell'hotel entra nella stanza, la mattina seguente trova Jane Thompson senza vita sul pavimento. Il medico legale stabilisce sul momento che la causa della morte è sconosciuta. Non si degna nemmeno di eseguire l'autopsia. Di conseguenza le autorità portano il corpo fuori dalla stanza e lo seppelliscono immediatamente. Successivamente inizia ad alleggiare il sospetto che Jane fosse stata avvelenata a morte. Dunque riesumano i suoi resti. Raymond dal canto suo è già in procinto di lasciare il paese. E se ve lo state chiedendo, no. Non si è assolutamente preso la briga di portare con sé la moglie e suo figlio. Quindi Incarnation rimane nuovamente sola. Raymond dunque fugge e riesce a trovare un passaggio su una nave fuori dal porto diretta negli Stati Uniti. Una volta tornato a New York si reca direttamente nel vecchio appartamento di Jane, occupato dalla sua anziana madre. Si presenta con il presunto testamento di Jane. Dico presunto perché chiaramente Raymond rifila all'anziana donna un documento contraffatto e quest'ultima ci casca. Questo vuol dire che non ha altra scelta. Deve permettere a Raymond di prendere pieno possesso delle proprietà. Per tutto il periodo in cui Raymond ha viaggiato per la Spagna, cenando sia con Jane che con Incarnation, non è stato di certo con le mani in mano. Infatti l'uomo ha già pianificato la sua mossa successiva. Parte del piano in effetti è quello di andare a New York per rilevare l'appartamento di Jane. L'altra parte del piano consiste nel continuare a scambiarsi lettere con donne del Club dei Cuori Solitari. E' una di quelle donne proprio Martha Beck. E' a questo punto che i protagonisti di questo caso si incontrano. Quindi ora torniamo a Martha che dal momento in cui presenta il suo annuncio al Club dei Cuori Solitari, continua ad eccellere nel suo lavoro al Pensacola Hospital. La sua vita professionale sta andando davvero bene. A dirla tutta, anche meglio del previsto, mentre la sua vita sociale e il suo desiderio d'amore continuano a rimanere in un angolino buio. Martha purtroppo non solo non viene notata dagli uomini, ma neanche dalle donne. Nessuna le si avvicina così tanto da entrare in grande confidenza con lei. E in generale ciò che prova è solo e soltanto un'enorme solitudine. Quando invia il suo primo annuncio al Club dei Cuori Solitari, si siede e aspetta pazientemente una risposta. E tutto sommato Martha non deve neanche aspettare così tanto, perché esattamente due settimane dopo riceve una risposta. Durante quella settimana, ad ogni giorno che passa, la delusione si impossessa sempre di più della donna. Poi, poco prima del Natale del 1947, riceve una lettera da New York e quella è l'unica lettera che riceverà. Ovviamente quella lettera è di Raymond, che afferma di essere un uomo d'affari di successo e molto rispettato nella comunità. Afferma che la fortuna che ha ottenuto fino a quel momento proviene dal suo lavoro nel settore dell'import-export. Utilizza parole elaborate, appare un uomo sincero e straordinariamente cortese. Raymond dice a Martha di essere originario della Spagna. Si è trasferito negli Stati Uniti per seguire il famoso sogno americano. Inoltre aggiunge queste esatte parole. Sono qui, in questo appartamento troppo grande per uno scapolo. Ma spero di condividerlo con mia moglie, un giorno. L'annuncio di Martha, invece, dice che è un'infermiera. Quindi Raymond fa riferimento anche a quel particolare nella sua lettera. Infatti le scrive So che hai un cuore grande e pieno, con una grande capacità di conforto e amore. Chiaramente la lettera di Raymond è così travolgente per Martha. Ha letteralmente gli occhi a forma di cuoricino. Da quella lettera non se ne separa più. Infatti decide di portarla sempre con sé, ovunque. Ogni volta che ne ha la possibilità, la tira fuori dalla tasca per leggerla ancora e ancora. È incantata dal modo in cui Raymond si esprime. Così liberamente e da quanto eloquenti siano le sue parole. Così la donna si reca al negozio per comprare della cancelleria. E corre a casa per iniziare a scrivere la prima di una serie di lunghissime lettere. I due si scrivono per due settimane e si scambiano almeno una dozzina di lettere e alcune fotografie l'una dell'altro. Lo scambio delle foto, ahimè, è un po' problematico per Martha. Non vuole di certo spaventare il suo potenziale amante e si vergogna tremendamente del suo corpo e delle sue forme. Infatti invia a Raymond delle foto di gruppo che comprendono tutte le infermiere del Pensacola Hospital. In quella foto Martha è in piedi dietro ad alcune delle sue colleghe nell'ultima fila. Nella lettera che invia con la fotografia ci tiene ad aggiungere che la foto non le rende giustizia. Il punto è che Martha non si rende conto che Raymond non si preoccupa minimamente né per le sue forme né per il suo aspetto. Dopotutto l'uomo nella sua vita ha ingannato, derubato e defraudato più di una dozzina di donne. Non gliene frega nulla dell'aspetto delle sue vittime. Giovani o anziani, in carne o longiline, per lui fa lo stesso. L'unica cosa di cui si preoccupa Raymond è se queste donne hanno meno qualche soldo da parte. Per lui il loro valore si basa solo su questo. Qui però c'è un problema grosso. Quando Raymond legge la lettera di Martha e scopre che è assunta come infermiera, diciamo che fa giusto qualche supposizione errata. Pensa che Martha sia benestante, che possieda una casa o qualcosa di prezioso. Raymond è consapevole di dover fare del suo meglio per riuscire a stabilire una sorta di relazione tramite posta. Sa che probabilmente dovrà scrivere a Martha un bel po' di volte prima di convincerla di incontrarsi di persona. Raymond fa tutto il possibile per ottenere la sua fiducia, dandole anche qualche anticipazione piccantina ed intima delle sue capacità. Non dobbiamo dimenticare, come ho già detto, che le vittime di Raymond, quando scoprivano di essere state ingannate, erano troppo imbarazzate per andare dalle autorità. Ognuna di loro provava un livello di colpe e omigliazione incredibile. Alcune si sentivano addirittura complici nel suo crimine. Erano riluttanti a farsi vedere in pubblico come un cuore solitario che doveva abbassarsi a trovare un uomo tramite un annuncio su un giornale o su una rivista. D'altra parte, Raymond era così egocentrico da presumere senza alcuna logica che le donne che aveva truffato fossero solo contente della sua abilità a letto. Credeva che avessero semplicemente accettato la sua estorsione come prezzo ragionevole dovuto a ciò che aveva dato loro. Dopotutto aveva concesso a tutte diversi giorni o settimane di beata felicità con un amante favoloso e carismatico come lui. Senza offesa, ma io già in questo momento mi sento di mandare a cagare Raymond potentemente. Raymond va a cagare! Vacci, per favore! Dopo le prime lettere, per Raymond, giunge il momento di fare il passo successivo. Quindi chiede a Marta di mandargli una ciocca dei suoi capelli. Una volta ricevuta la ciocca, l'uomo inizia ad eseguire il suo rituale voodoo standard. Il suo rituale consiste in una cerimonia che lo avrebbe trasformato in un latin lover. In questo modo, Marta non sarebbe mai stata in grado di resistere al suo grande fascino. Marta si sente la donna più fortunata della Terra quando il suo nuovo amico di penna le chiede di mandargli una ciocca di capelli. Dopo tutto, nessuno le aveva mai chiesto una cosa del genere prima di allora. Prende quindi volentieri un paio di forbici per tagliare una bella ciocca di capelli, che include in una lettera assicurandosi di spruzzarci sopra un pochino del suo profumo. Marta a questo punto se lo sente. Il suo destino finalmente si sta compiendo. Il suo principe azzurro è davvero arrivato. È sicura che il suo cavaliere dall'armatura scintillante, l'uomo dei suoi sogni, sia Raymond. Una volta che Raymond conclude il suo rituale voodoo, decide di aver creato in Marta abbastanza suspense. L'attesa può concludersi. Quindi decide di fare il passo successivo, ossia andare in Florida per poter finalmente incontrare dal vivo Marta. L'uomo prende il treno per andare dalla donna. Quest'ultima, quindi, dovrebbe andare a prenderlo alla stazione dei treni. Marta è nervosissima perché sa che il suo annuncio era fuorviante e anche lei tramite le sue lettere e le sue foto è stata fuorviante. Raymond arriva a Pensacola in Florida il 28 dicembre del 1947. All'inizio l'uomo probabilmente è colto alla sprovvista dalla figura di Marta. Tuttavia è abbastanza prudente da nascondere l'eventuale disapprovazione che potrebbe aver provato. La prima volta che Marta lo vede invece è elettrizzata. Si sente la donna più fortunata del pianeta ad aver attirato l'attenzione di quell'uomo così bello. Marta è molto stupita del fatto che Raymond le abbia prestato attenzione. Quando si avvicina, lei non esita ad arrendersi al suo fascino. Vanno quindi rapidamente in un motel per fare le cose a letto e Marta quella notte per la prima volta raggiunge il momento di massimo piacere. Raymond però ha davvero altre cose per la testa, non può pensare solo a saziare la fame piccantina di Marta. Sta pianificando il resto del suo piano quando finalmente prenderà a Marta tutto ciò che possiede. Non vede letteralmente l'ora di finire di fare le capriole a letto per scoprire se Marta ha abbastanza risorse per far sì che l'intera faccenda valga il suo tempo e i suoi sforzi. I due amanti passano un giorno e una notte a letto continuando a fare cose ogni volta che possono. Quando finiscono di saziarsi intimamente, Marta esprime la sua completa devozione e il suo amore eterno per lui. Gli chiede addirittura di trasferirsi in Florida così potranno sposarsi. Marta non sa che Raymond ha in mente tutto tranne il matrimonio. Vuole solo estorcere le presunte ricchezze di Marta per poi tornare al suo lavoro, ossia truffare altre donne. Quindi escogita rapidamente una scusa dicendo a Marta che a New York ci deve tornare per forza per i suoi affari. Marta ovviamente cerca di convincere Raymond a restare, lo supplica. E alla fine l'uomo riesce a calmarla promettendole che non sarebbe rimasto via molto a lungo o comunque avrebbe trovato il modo di portarla a New York con lui. Così Raymond sale sul treno che da Pensacola lo riporta a New York mentre Marta torna a Milton per dire alla sua famiglia che si sposerà di nuovo. Sono tutti così emozionati che organizzano immediatamente una festa per far sapere la notizia a chiunque il prima possibile. Tuttavia quando arriva il giorno della festa Marta riceve una lettera per posta da Raymond in cui c'è scritto che lei ha frainteso totalmente le sue intenzioni. In realtà non condivide gli stessi sentimenti che Marta prova per lui. Quindi non tornerà in Florida, almeno non per lei. Marta è comprensibilmente sconvolta dalla notizia. È così disperata che tenta il suicidio e questo fa crollare Raymond che alla fine le dice di aver cambiato idea. La invita a New York per fargli visita. Marta ovviamente accetta la visita e passa a New York due fantastiche settimane. Quando torna dal viaggio a New York si dirige a lavoro come al solito scoprendo che l'hanno licenziata e non le danno neanche una ragione valida per la loro decisione. Si rifiutano di darle una spiegazione. Marta pensa di essere stata licenziata perché il suo latin lover era andato a trovarla da New York. Tuttavia sente anche che c'è qualcosa in più dietro il suo licenziamento. Dunque si convince che l'intera città ha scoperto della sua recente relazione spudorata. Di conseguenza dopo essere andata in ospedale per prendere il suo ultimo stipendio torna a casa, fa le valigie, vesti sua figlia e suo figlio, saluta un piccolo gruppo di amici del quartiere e poi si dirige alla stazione degli autobus per andare a New York. Il 28 gennaio del 1948 Martha bussa alla porta di Raymond che rimane stupito di vedere Martha sulla soglia di casa sua con entrambi i suoi figli. Tutto ciò per lui rappresenta un problema. Non può continuare ad ingannare altrettante vittime ignare in questa situazione. Tutto sommato però Raymond non è del tutto irritato dalla presenza di Martha. In effetti sembra felice di averla lì. Dopotutto lei lo ama e anche follemente. Gli cucina i pasti e gli prepara il letto. Lui non deve fare più nulla in quella casa. L'unico problema di Raymond sono i bambini. Quindi convince Martha a trovare un posto tutto per sé per andare a vivere con i bambini. Martha è reluttante a soddisfare la sua richiesta. Quindi alla fine decide di abbandonarli all'esercito della salvezza. Dopo che Raymond convince Martha a lasciare i suoi figli rimangono soli nell'appartamento. Così a questo punto l'uomo decide che è giunto il momento di parlare con lei della sua occupazione. Le mostra tutte le lettere che l'uomo aveva scritto al club dei cuori solitari. È molto franco e onesto con lei. Vuota il sacco. Le spiega quanto segue. Le fa una lista delle moltitudini di donne che aveva truffato e quelle che aveva ingannato con falsi nomi e false storie riguardo la sua vita. Le spiega che ha anche una moglie in Spagna ma non solo in quanto Raymond ha sposato tante donne anche negli Stati Uniti. Tutte le vittime che sono state derubate dall'uomo non hanno richiesto ufficialmente il divorzio. Martha dobbiamo sottolinearlo ha l'autostima sotto i piedi e dato che Raymond le sta dando quell'attenzione così tanto ricercata e desiderata è già completamente dedita a lui. Quando Raymond le rivela la verità a Martha sente di aver fatto bingo. Raymond è il suo principe azzurro e lei la sua cenerentola. Martha ora sente che aiutarlo è la sua missione della vita. È sempre stata destinata a questo. Così la coppia dei cuori solitari si forma e ben presto iniziano a raccogliere tutte le riviste e i giornali per esaminare gli annunci di donne sole in cerca di un uomo. Non passa molto tempo quando trovano la loro prossima vittima. Si tratta di Esther Henn una donna che vive nella Pennsylvania meridionale. I due quindi dopo aver iniziato una corrispondenza con la donna per conquistarsi la sua fiducia come al solito salgono in macchina per andare in Pennsylvania col fine di incontrare Esther. Per spiegare la presenza di Martha Raymond dice ad Esther che è solo sua cognata. Il 28 febbraio del 1948 nemmeno una settimana dopo il loro arrivo in Pennsylvania Esther sposa Raymond. I due vanno a Fairfax in Virginia per una piccola ma veloce cerimonia di matrimonio presso l'ufficio del County Clerk's Office. Dopo essere convolati a nozze i tre tornano insieme nell'appartamento di Raymond e Martha a New York. Più avanti Esther viene intervistata da un giornalista e dice per quattro giorni è stato molto gentile con me poi però mi ha rimproverata asperamente quando gli ho detto che non gli avrei mai ceduto le mie polizze assicurative o il mio fondo pensione. Ovviamente le cose tra Esther e i due vanno male infatti la donna aggiunge sempre durante l'intervista. Ho iniziato a sentire alcune strane storie su come è andato in Spagna con una donna e beh lei è morta. Non molto tempo dopo aver sentito queste voci Esther abbandona il suo nuovo marito tuttavia quando lascia New York non ha più la macchina ed è più povera di diverse centinaia di dollari. Dopo che Esther abbandona Raymond lui e Martha continuano ad approfittare di molte donne sole. Myrtle Young di Green Forest Arkansas non solo ha una fitta corrispondenza con Raymond ma accetta di sposarlo. Il 16 agosto del 1948 con Martha che finge di essere sua sorella Myrtle e Raymond si sposano a Cook County in Illinois. A seguito delle nozze Martha decide di fare di tutto per impedire a Raymond di consumare la prima notte di nozze. Insomma sposare mezzo mondo e truffare donne sole va bene ma guai a farci le cose tuzzettine no 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 pensate che gli sforzi di Martha sono così tanto intensi che insiste affinché Myrtle dorma a letto con lei. Dopo aver dormito con la sorella di Raymond per diversi giorni Myrtle va a denunciare col suo nuovo marito Martha. Non ho capito bene per quale motivo in realtà. In ogni caso Raymond sa che deve trovare una soluzione per la situazione di Myrtle quindi decide di sedarla con l'aiuto di Martha tramite delle medicine per poi portarla alla stazione e rimetterla su un autobus diretto a Little Rock in Arkansas. Quando arriva alla destinazione prevista Myrtle non riesce neanche a scendere dall'autobus da sola poverina. La polizia locale di Little Rock deve andare alla stazione degli autobus per prenderla e portarla al Little Rock Hospital. Il giorno seguente Myrtle muore in ospedale diventando la prima vittima degli assassini dei cuori solitari. Successivamente emergerà che Myrtle è tornata in Arkansas più povera di circa 4.000 dollari. Raymond e Martha nel frattempo tornano a New York e durante il viaggio prendono accordi per incontrare altrettante donne a cui Raymond ha scritto. Riescono ad ottenere non pochi soldi ma nessuna donna va bene per loro nessuna donna ha abbastanza soldi per far sì che si sistemino del tutto. Quindi quando la coppia torna a casa va a fare scorta di annunci di cuori solitari. Hanno assolutamente bisogno di più vittime se vogliono mantenere un reddito. Il loro bersaglio successivo è una donna che vive nel New England. Quando vanno lì per incontrarla però Martha costringe Raymond a lasciar perdere. Ebbene quella donna è molto più giovane di quanto Martha credesse e molto probabilmente più carina di quanto Martha preferisse. Di conseguenza Raymond non può proseguire col suo piano. Ora però la coppia ha un bel problema perché Raymond e Martha stanno finendo i soldi eppure velocemente. Sanno che l'inverno è alle porte e nessuno dei due ha un lavoro per sostenere il proprio stile di vita. Janet Faye vive in un appartamento di russo al centro di Albany New York. La donna ha una situazione economica stabile. Sfortunatamente sviluppa abitudine di scrivere molte lettere ad altri membri del club dei cuori solitari. Poco importa che la sua famiglia e i suoi amici la mettano in guardia dicendole di stare attenta. Alcuni addirittura le consigliano di non farlo. Ma Janet piace scrivere gli annunci e piace rispondere agli annunci quindi continua a farlo. La donna è anche una devota cattolica che assiste sempre alla messa ogni domenica. Raymond che spesso si presenta col nome di Charles Martin usa la fede di Janet per truffarla. Infatti ogni lettera che scrive dal momento in cui scopre il suo background religioso è piena di gerghi della chiesa con riferimenti a Dio. Raymond tiene una corrispondenza con Janet per alcune settimane fino a quando non la convince di essere un brav'uomo degno della sua fiducia. Raymond e Martha arrivano ad Albany il 30 dicembre del 1948. Si registrano in una stanza in uno degli hotel del centro presentandosi come mister e missis Fernandez. Il giorno seguente l'uomo si reca nell'appartamento di Janet con un bellissimo mazzo di fiori. Janet lo invita ad entrare e i due trascorrono l'intera giornata insieme. Parlano si conoscono meglio e discutono delle loro convinzioni religiose. Dal secondo giorno in poi Raymond porta sempre Martha con sé ogni volta che vada Janet. La prima volta le presenta Martha come sua sorella. Janet ci casca e i giorni successibili trascorrono sempre tutti insieme cenando in ristoranti di lusso. Vanno così tanto d'accordo che Janet le invita a stare a casa sua invece di rimanere in albergo. non molto tempo dopo Raymond chiede a Janet di sposarlo. Quest'ultima è così innamorata che non esita neanche un minuto accetta immediatamente la proposta. L'uomo dunque la comincia a trasferirsi a Long Island dato che Martha ha già affittato un appartamento proprio lì. Nella prima settimana del gennaio del 1949 Janet va nelle diverse banche di Albany per chiudere tutti i suoi conti personali a più di 6.000 dollari in assini bancari e contanti. Così Janet torna a casa e Raymond la convince a lasciare immediatamente Albany. Infatti il 4 gennaio del 1949 Janet lascia Albany per Martha e Raymond tutti e tre tornano insieme a Long Island. Una volta riuniti nella casa che Martha aveva affittato cenano e poi trascorrono la serata rilassandosi. Raymond va a letto per primo mentre le due donne rimangono alzate insieme. Quando Raymond va a dormire l'esatta sequenza degli eventi non è nota. Martha dirà che stava bruciando di rabbia e gelosia tuttavia afferma anche che quella stessa sera Janet era andata a letto poco dopo Raymond e Martha li aveva beccati a letto insieme. Martha era già scocciata con Raymond perché prestava molta attenzione a Janet. Quando li aveva visti insieme a letto non ci aveva visto più dalla rabbia insomma. Martha inoltre dichiarerà che dopo questa situazione Janet si era arrabbiata tantissimo e aveva urlato non ti permetterò di vivere con noi sei la c***a più sfacciata che abbia mai visto. Poco dopo Raymond si era unito alla discussione dicendo a Martha fai stare zitta questa donna non mi importa cosa fai ma falla stare zitta. A questo punto i ricordi di Martha si fanno confusi perché quella notte era svenuta. dichiarerà a processo che quando aveva ripreso i sensi si era ritrovata davanti il corpo di Janet che giaceva ai suoi piedi aveva un grave trauma cranico e sanguinava copiosamente Janet infatti era stata colpita con un martello fino a farle perdere i sensi infine era stata strangolata con una sciarpa Martha afferma che era stata lei ad uccidere Janet ma quando l'aveva fatto sicuramente era in uno stato di trance a questo punto Martha e Raymond si prendono il tempo necessario per pulire la stanza per avvolgere il corpo di Janet in alcune lenzuola e asciugamani e spingerla nell'armadio della camera da letto il giorno dopo la coppia acquista un baule abbastanza grande da scaricare il corpo di Janet all'interno poi lo portano a casa della sorella di Raymond e Raymond torna a casa di sua sorella per prendere il baule poi la porta in una casa che ha affittato e lo seppellisce in cantina versando anche del cemento sopra la tomba per nasconderla i due amanti trascorrono la settimana successiva di incassare gli assegni bancari di Janet e scrivendo lettere a macchina alla famiglia della donna le lettere dicono sono così emozionata sto vivendo finalmente ciò che merito la mia vita è incredibile e non sono mai stata più felice presto sarò la signora martinez sposerò Raymond e andrò in florida ogni lettera viene firmata da Janet l fey tuttavia i due assassini dei cuori solitari così facendo si fregano con le loro stesse mani perché quelle lettere per un determinato particolare rendono scrivono tutte le lettere a macchina ma Janet non sa scrivere a macchina non ne ha mai usata una pertanto quando ricevono le lettere chiamano la polizia spiegano la situazione per dire loro che c'è qualcosa che non va intanto Raymond e Martha non perdono tempo e lasciano immediatamente Long Island altronde hanno già in mente una nuova destinazione ossia Grand Rapids nel Michigan hanno individuato un'altra potenziale vittima infatti Raymond ha già trascorso diverse settimane a scambiarsi lettere con la 41enne Delphine Doewing la donna è vedova Raymond si presenta con il nome di Charles Martin come al solito e dice a Delphine che lavora come commerciante di esportazione e ha un discreto successo in questa attività quando Delphine riceve una lettera da Charles che le informa che sta andando a farle visita a casa sua nel subborgo di Grand Rapids rimane sorpresa e contenta non le importa neanche che abbia scritto che Martha sua sorella lo avrebbe accompagnato quando Delphine vede Charles per la prima volta a casa sua alla fine del gennaio 1959 rimane molto colpita dall'uomo spera davvero di avere un futuro con lui Raymond è davvero estremamente cortese e premuroso meno di un mese dopo i due sono coinvolti anche intimamente e quando Martha lo viene a scoprire inizia a ribollire dentro di lei una rabbia incredibile tuttavia in breve tempo la felicità che prova Delphine svanisce una mattina in particolare entra nel bagno in cui si trova Charles e ciò che vede la sciocca totalmente l'uomo è in piedi davanti allo specchio e non ha più i capelli in testa la donna non aveva idea che Charles indossasse un parrucchino né sapeva della sua brutta cicatrice alla testa Delphine è così sconvolta che si infuria con Raymond definendolo un imbroglione inoltre lo accusa di averla deliberatamente ingannata l'uomo cerca di calmarla facendo leva sul suo incredibile fascino ma Delphine non si calma affatto Martha a questo punto nonostante sia gelosa perché Raymond dorme abitualmente con un'altra donna vuole che le cose si calmino infatti ha un'idea va a prendere alcuni dei suoi sonniferi e convince Delphine a prenderli e in effetti la donna si tranquillizza perché si addormenta Raymond quindi si precipita in un'altra stanza afferra una pistola appartenuta al defunto marito di Delphine poi afferra una coperta vicina e la avvolge attorno alla mano e alla pistola posa con calma l'arma contro la testa della donna e spara un solo colpo uccidendo Delphine all'istante gli assassini prendono delle lenzuola di Delphine e la avvolgono in esse prima di portarla nel seminterrato quindi afferrano la pala e iniziano a scavare una buca in cui gettano il corpo senza vita di Delphine dopo aver riempito la buca con la terra coprono la tomba improvvisata con del cemento Marta nel frattempo va al piano superiore per pulire la stanza in cui è avvenuto l'omicidio a questo punto la coppia trascorre i giorni successivi cercando di capire come scappare da casa di Delphine per passare alla vittima successiva prendono tutti gli assegni che la donna ha in casa li incassano per poi rubare tutti gli oggetti di valore di Delphine a questo punto Raymond e Marta sono finalmente liberi di lasciare la città e passare alla loro prossima meta quindi alla loro prossima vittima tuttavia questa volta non affrettano le cose se la prendono con comoda insomma sanno che una semplice decisione stupida potrebbe costare ad entrambi l'intera vita quindi dopo aver pulito la scena del crimine Raymond porta Marta a vedere un film dove condividono dei popcorn e una bibita più tardi con tranquillità rincasano preparando le valigie tranquillamente poi improvvisamente qualcuno bussa la porta d'ingresso indifferente dall'interruzione Raymond si avvicina e apre la porta con calma e disinvoltura e viene accolto da due agenti di polizia che hanno risposto a una chiamata ricevuta dai vicini preoccupati proprio per Delphine il 28 febbraio del 1949 Raymond e Marta vengono arrestati dal dipartimento di polizia di Grand Rapids vengono portati all'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Kent in modo da essere interrogati dalle autorità in questo caso Raymond dichiara non sono un assassino qualunque ho metodo con le donne sono tutte in mio potere per poi esporre tutti i dettagli dei crimini commessi sia da solo che con Marta tra cui l'inganno usato da Raymond per avvicinarsi alle loro vittime e il modo in cui hanno eliminato tutte le vittime a seguito della confessione verbale i due scrivono una confessione dettagliata di 73 pagine Raymond e Marta si mettono d'accordo con le autorità per non essere estradati a New York infatti nel Michigan non è prevista la pena di morte quindi i due assassini accettano volentieri di fare tutto il possibile per rimanere nella contea di Kent Martha e Raymond vengono informati che i tribunali sarebbero stati indulgenti con loro specialmente con lui se avesse dichiarato la verità in effetti gli dicono che con la buona condotta sarebbe potuto uscire nel giro di 6 anni in meno di 24 ore i giornali di tutta la nazione sono in competizione per pubblicare il titolo più provocatorio il caso degli assassini dai cuori solitari cattura l'attenzione di tutti dalla costa orientale alla costa occidentale dal Canada a nord al Messico a sud i principali giornali di ogni grande città stampano titoli giganti per catturare l'attenzione del pubblico ogni volta che Raymond e Martha vengono portati fuori dalla loro cella per qualsiasi motivo i fotografi sono lì per catturare il momento insomma tutti vogliono sapere cosa stia facendo la coppia più odiata d'America poi i titoli e gli articoli diventano ancora più personali quando i giornali iniziano a scrivere solo di Martha i titoli dei giornali americani usano spesso termini molto umilianti per descriverla come ad esempio grassa o non attraente ogni articolo che parla di Martha include anche il suo peso con la frenesia che la stampa sta causando tra il pubblico le forze dell'ordine del Michigan si trovano di fronte ad un grande dilemma se ricordate hanno già promesso a Raymond e a Martha che non sarebbero stati estradati a New York tuttavia questa decisione potrebbe effettivamente cambiare dall'8 marzo del 1949 alla settimana successiva il governatore di New York Thomas Dewey si impegna in un negoziato con lo stato del Michigan è a questo punto che il procuratore distrettuale della contea di Kent accetta un accordo la contea di Kent rinuncia a qualsiasi accusa penale contro Raymond e Martha questo accordo permette alle forze dell'ordine di estradare la coppia a New York per processarli per l'omicidio di Janet Faye il 28 giugno 1949 inizia il processo per l'omicidio contro Raymond e Martha Herbert Rosenberg un giovane avvocato di Manhattan rappresenta entrambi gli imputati l'avvocato successivamente presenta una petizione alla corte per un cambio sede che il giudice concede viene stabilito che il processo si svolgerà presso la suprema corte del Bronx il procuratore distrettuale di Nassau Robinson durante il processo parte a gamba tesa con la sua strategia chiamando numerosi testimoni ed esperti tra i testimoni e gli esperti è presente il medico legale che ha eseguito l'autopsia su Janet e i suoi amici di Albany New York e il padrone di casa di Janet poi chiama a testimoniare anche gli investigatori del Michigan e persino alcuni investigatori forensi presenti per spiegare alla giuria il significato di ogni singola prova l'11 luglio del 1949 Raymond fornisce la sua testimonianza inizia negando qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio di Janet afferma che lui e Martha si erano appena incontrati poco dopo l'omicidio di Janet anche se ammette che l'aveva incontrata attraverso gli annunci dei cuori solitari dice alla corte che in effetti aveva fornito una confessione alle forze dell'ordine del Michigan tuttavia ora sta ufficialmente ritrattando quella confessione afferma infatti che aveva confessato di aver commesso i crimini solo nel tentativo di proteggere Martha dai guai non voleva cadesse nulla alla sua amata mentre Raymond parla alla corte la sua voce è dolce e spesso guarda negli occhi Martha ogni volta che i loro occhi si incrociano lui le sorride amorevolmente per sottolineare il suo desiderio di proteggere Martha e il suo amore per lei Raymond dice tutte le mie dichiarazioni sono state fatte allo scopo di aiutare Martha io la amo quando giunge il momento per Robinson di interrogare Raymond attacca la validità della sua testimonianza chiedendo all'uomo come mai Janet Delphine e Myrtle sono morte non troppo tempo dopo averlo incontrato ogni volta che l'imputato cerca di evitare le sue domande Robinson insiste la voce del pubblico ministero aumenta di domanda in domanda affinché non arriva ad urlare contro Raymond nel corso dell'intenso interrogatorio durante il quale fornisce ulteriori dettagli sull'interrogatorio che ha subito in Michigan Raymond a questo punto dice in realtà tutti potevano interrogarmi compresi i giornalisti il procuratore distrettuale mi aveva detto che qualunque cosa avessi detto non sarebbe stata usata contro di me mi avrebbero considerato un assassino a New York ma avrebbero lasciato andare Martha se avessi collaborato mi dissero che avrei scontato sei anni e sarei stato rilasciato sulla parola se invece non avessi collaborato sarei andato in prigione a vita in ogni caso l'accusa presenta prove significative contro la coppia in effetti durante il processo vengono lette alla giuria delle parti della loro lunga confessione rilasciata in Michigan poi ecco che arriva il momento in cui tutte le 73 pagine su cui hanno scritto le loro confessioni vengono lette in tribunale per poi essere assunte come prove quando la coppia parla dei dettagli di ogni omicidio l'intera aula di tribunale rimane senza fiato è a questo punto che Robinson guarda Raymond negli occhi e gli chiede a bruciapelo se fosse stato lui ad uccidere Delphine con un colpo di pistola alla testa Raymond è onesto dice al pubblico ministero sì è vero il pubblico ministero lo incalza chiedendogli se ha ucciso anche Janet Faye ma Raymond continua a negare così in aula continuano a leggere la dichiarazione di oltre 70 pagine la giuria ascolta tutto pagina dopo pagina la confessione della coppia descrive in modo dettagliato la loro sordida odissea di frode inganno omicidio e cose intime piccantine che non sono mai mancate nella vita di Raymond la testimonianza di Raymond non tralascia nessuno dei sordi di dettagli sull'attività intima dell'uomo con le sue vittime anche prima di conoscere Martha quando nella difesa nell'accusa hanno ulteriori domande da fare a Raymond arriva il turno di Martha il 25 luglio del 1949 Rosenberg chiama Martha Beck a testimoniare Raymond la guarda con aria interrogativa perché nemmeno lui sa cosa aspettarsi dalla sua testimonianza Martha in realtà racconta molto della sua infanzia e adolescenza racconta ciò che l'aveva fatta soffrire afferma che era stata vittima di violenza in giovane età e questa esperienza l'aveva portata a chiudersi in se stessa secondo Martha questi assalti avevano predato la sua mente si era infatti ritirata in un mondo fantastico tutto suo dove aveva iniziato a sognare di incontrare l'anima gemella e innamorarsi la donna pronuncia queste esatte parole la vita non valeva la pena di essere vissuta avrei preferito morire piuttosto che continuare a litigare con mia madre ogni santo giorno poi Martha spiega che sua madre era così tanto controllante che la riempieva di domande non le permetteva di uscire con i ragazzi e la umiliava per il suo aspetto fisico Martha per la prima volta ammette che a causa di sua madre aveva tentato più volte il suicidio parlando dei rapporti che Martha aveva con gli uomini emerge che la situazione non era affatto delle migliori ogni volta che iniziava a frequentare un uomo era come se sentisse che non c'era futuro per loro uno dei suoi primi amanti l'aveva lasciata quando era incinta Martha con le lacrime agli occhi dice in aula mi aveva dato l'impressione che fosse l'unica che avesse mai realmente amato quindi anche in quel momento così delicato come il processo in cui è imputata per omicidio la donna si chiede perché l'uomo avesse deciso di abbandonarla anzi prima di abbandonarla alla scoperta della notizia se ricordate aveva tentato il suicidio successivamente tutti gli uomini con cui Martha aveva avuto una relazione si erano rivelati a dir poco disastrosi ecco perché la vergogna e la paura di non trovare mai nessuno che la amasse l'aveva motivata a tentare il suicidio per l'ennesima volta a quanto dice Martha l'anno precedente al suo arresto aveva tentato il suicidio in diverse occasioni successivamente Martha scoppia a piangere spiegando che aveva anche dovuto abbandonare i suoi figli non dimenticherà mai il giorno in cui aveva portato suo figlio e sua figlia all'esercito della salvezza a New York City per sbarazzarsi di loro era il 25 gennaio del 1948 Martha ovviamente è consapevole che Raymond era un assassino e lo aveva aiutato volentieri nelle sue gesta tramite gli annunci dei cuori solitari poi a Martha viene chiesto di raccontare alla corte cosa era successo a Janet Faye Martha risponde che i dettagli erano confusi non riusciva a ricordare molto ricordava che prima che Janet morisse Raymond le aveva detto di trovare un modo per mantenere la donna tranquilla dopodiché non riusciva a ricordare molto a altro a parte il fatto che era in piedi sopra il corpo senza vita di Janet e Raymond le stava urlando contro mentre la scuoteva dicendole mio dio Martha cosa hai fatto a questo punto è il turno di Robinson di interrogare Martha inizia chiedendole del suo amore per Raymond che Martha non esita a difendere infatti dice ci amiamo e lo considero un uomo meraviglioso hai definito il nostro amore anormale ma il mio amore per Raymond non è affatto anormale una richiesta di Raymond per me è un comando l'uomo abbastanza da fare qualsiasi cosa lui mi chieda Robinson procede con l'interrogatorio chiedendo le delucidazioni sulla morte di Janet ma Martha ripete ciò che già ha affermato in precedenza non ricordava di aver commesso l'omicidio ricordava solo di aver guardato in basso e di aver visto Janet sul tappeto ferita a questo punto Raymond era andato a prendere una sciarpa poi gli aveva ordinato di avvolgergliela intorno al collo come un laccio emostatico Martha conclude dicendo che la sua formazione come infermiera le aveva insegnato che un laccio emostatico al collo avrebbe bloccato l'emorragia alla testa il controinterrogatorio di Martha da parte di Robinson è a dir poco implacabile e dura due giorni Martha durante la sua testimonianza si emoziona si arrabbia spesso piange spesso è molto emotiva a questo punto però la sua natura ribelle fa capolino e prende il sopravvento quindi Martha fornisce dettagli vividi sui rapporti intimi che lei e Raymond avevano avuto a quanto pare quei dettagli sono troppo per alcune donne che decidono di alzarsi e uscire dalla stanza Martha descrive alla corte che lei e Raymond avevano partecipato ad alcuni atti intimi che avevano una connessione con il voodoo le testimonianze nel processo di Martha e Raymond durano 44 giorni in seguito la giuria va a deliberare il 18 agosto del 1949 alle 21.45 la giuria chiede al giudice la possibilità di leggere nuovamente la confessione di Raymond e di Martha di 73 pagine la maggior parte delle persone ipotizza che Raymond riceverà la condanna più severa in quanto pensano che la giuria condannerà Martha per un'accusa minore alle 8.30 del mattino seguente l'attesa cessa e la giuria pare essere pronta col verdetto successivamente però emerge che i giurati a favore del verdetto sono 11 mentre un giurato mette in dubbio la sanità mentale di Martha inoltre ipotizza che l'omicidio di Janet sia stato premeditato da Raymond la giuria dunque decide di discutere ulteriormente per arrivare ad un verdetto unanime che richiede altrettanti ore di attesa la giuria alla fine stabilisce che Raymond e Martha sono colpevoli di omicidio di primo grado mentre il verdetto viene letto ad alta voce la coppia non mostra alcuna emozione in effetti non sembrano minimamente scioccati dal verdetto finale la giuria non raccomanda nessuna forma di misericordia pertanto la sentenza è prevista per il lunedì successivo il 22 agosto del 1949 il giudice dice a Martha e a Raymond di presentarsi davanti a lui in modo da poter ricevere la sentenza in meno di due mesi più precisamente il 10 ottobre del 1949 entrambi saranno condannati a morte moriranno sulla sedia elettrica per pagare per i loro crimini meno di un'ora dopo la coppia è sul furgone diretto alla prigione di Sing Sing non appena arrivano in prigione funzionari porgono ad entrambi una domanda ossia a cosa attribuisci il tuo atto criminale Martha risponde è qualcosa in cui sono entrata e non avevo il controllo Raymond molto meno esplicito dice che il suo atto criminale è da attribuirsi ad un incidente dopodiché la coppia dei cuori solitari viene divisa vengono portati via in celle separate nel braccio della morte l'elenco dei visitatori che Martha presenta per l'approvazione include il suo ex marito Alfred Beck suo fratello e le sue tre sorelle nella lista scrive anche il nome dei suoi due figli dato che non li vede dal gennaio 1948 dal giorno in cui la prigione di Sing Sing apre le sue porte come penitenziario fino ai giorni nostri non ha mai avuto un periodo più drammatico di quello dal 19 agosto 1949 all'8 marzo 1951 la maggior parte di quel dramma è incentrato sulla sfortuna di Martha per quanto riguarda le varie relazioni con gli uomini che l'hanno lasciata da sola con il cuore spezzato la stampa è determinante nell'alimentare questo dramma chiariamo continuano a stampare storie che perpetuano i pettegolezzi che circondano Martha e Raymond e le loro vite come gli assassini dei cuori solitari i loro articoli sono pieni di resoconti del comportamento anormale di Martha le voci quindi cominciano a incentrarsi su Martha e sulle presunte attività intime che sta avendo con una delle guardie del Sing Sing questa situazione arriva al culmine nel settembre del 1950 quando i tabloid usano l'argomento per creare dei titoloni in prima pagina poi finiscono anche il radio in una trasmissione condotta da Winkle Martha risponde all'accusa in una lettera indirizzata a Warden Denno il direttore della prigione pensare o dire apertamente che ho una relazione con una guardia è una delle affermazioni più stupide e ridicole mai fatte circa 25 milioni di persone hanno ascoltato la trasmissione di Winkle stasera compresi i membri della mia stessa famiglia e ammetto che per loro sentire tutto ciò sarà stato uno shock e li avrà messi in imbarazzo dall'altro lato è evidente che Raymond crede alle storie che ascolta perché è presente una petizione alla corte per far archiviare il suo caso quella petizione include la seguente dichiarazione questa situazione il tradimento di Martha mi sottopone a torture mentali oltre ogni sopportazione Martha intatto contatta Rosenberg chiedendogli disperatamente di porre fine a questi pettegolezzi nella lettera scrive cosa si aspettano che faccia dovrei sedermi qui e lasciare che distruggano l'unico filo di decenza che mi è rimasto con il passare dei mesi e dei giorni che precedono l'esecuzione di Raymond e Martha il rapporto di amore e odio che condividono cambia a seconda del giorno quindi letteralmente ogni volta che si cambiano le mutande questo è più o meno il tempo che intercorre tra l'amore e l'odio in alcuni giorni gridono il loro amore infinito mentre in altri giorni nemmeno si parlano ad esempio Martha scrive una lettera a sua madre piena di critiche nei confronti di Raymond che ora vi vado immediatamente a leggere ossia è coraggioso quando si tratta di parlare e ferire gli altri sa che può uccidere senza battere ciglio ma è chiaro che non si farebbe mai del male da solo ci vuole un uomo per uccidersi mi sarei uccisa per quell'uomo davvero ma ora ai miei occhi quell'uomo non è altro che un topo piagnucoloso basso e bugiardo durante il tempo che Raymond trascorre nel braccio della morte in attesa della sua esecuzione a quanto pare all'insaputa di Martha scrive costantemente ad Encarnacion la sua prima moglie che vive con i suoi figli alla linea della concepción in Spagna esprimendole l'amore che non ha mai smesso di provare per lei ad esempio Raymond scrive una lettera l'8 gennaio 1951 che recita baci e bracci ai bambini meriti di ricevere un milione di baci e abbracci da colui che ti avrà sempre nel cuore e quella persona sono io fino all'ultimo secondo della mia vita sarai nel mio cuore anche se sa perfettamente che Raymond è stato con altre donne Encarnacion lo considera ugualmente suo marito quindi dopo che Raymond e Martha falliscono diversi appelli l'8 marzo 1951 viene emesso un ordine di esecuzione è giunto il momento di affrontare la sedia elettrica l'elenco delle persone autorizzate a essere presenti come testimoni all'esecuzione di Martha e Raymond ammonta a un minimo di 52 quel numero è eccezionalmente alto per la prigione dell'epoca l'elenco include 9 giudici diversi funzionari delle forze dell'ordine di Long Island Michigan e New York anche gli amministratori della prigione di Sing Sing sono insolitamente accomodanti con la stampa questo è ovvio perché parecchi media vengono inseriti nell'elenco dei testimoni ossia quando l'ora della loro morte si avvicina Raymond diventa mano a mano sempre più nervoso rivela uno dei funzionari della prigione che potrebbe crollare per la troppa ansia che sta provando Raymond prima di essere giustiziato riceve un biglietto d'amore da Martha che gli confessa la sua incrollabile devozione in risposta alla lettera Raymond dichiara la notizia che Martha mi ama è la migliore che avessi avuto da anni ora sono pronto a morire quindi stanotte morirò da uomo dopodiché Raymond viene prelevato dalla sua cella per essere legato alla sedia elettrica il punto è che ormai Raymond non è altro che un uomo distrutto perché è così preso dal panico che rimane paralizzato dalla paura pertanto deve essere trasportato fisicamente dalla sua cella alla camera dell'esecuzione per essere legato alla sedia elettrica mentre viene trascinato giù per il corridoio grida perché tutti lo sentano voglio gridarlo amo Martha cosa ne sa il pubblico dell'amore un paio di minuti dopo Raymond viene dichiarato morto ed ora è il turno di Martha prima di essere rimossa dalla prigione rilascia un'ultima dichiarazione alla stampa dicendo la mia è una storia d'amore ma solo chi è torturato dall'amore può capire cosa intendo sono stata raffigurata come una donna grassa e insensibile non sono insensibile stupida o idiota Martha esce dalla cella di sua spontanea volontà e viene scortata dai funzionari della prigione alle 23 e 24 viene dichiarata morta l'ultima dimora di Raymond è l'ormai defunto cimitero della prigione di Sing Sing un luogo abbandonato che probabilmente non ha quasi mai visto un visitatore i resti di Martha sono sepolti in un cimitero della Florida ma la sua tomba non ha nemmeno una lapide ora però ho da farvi un paio di domandine visto che questo video è tutt'altro che breve se siete arrivati o arrivate fino a qui ditemi a voi passerebbe anche solo nell'anticamera del cervello di fare ciò che ha fatto Martha per l'apparente amore di un altro individuo non trovateci sia davvero qualcosa di anomalo in questa storia pensate che se Martha si fosse sentita più accettata dalla sua famiglia e dalla società la sua storia avrebbe avuto un finale diverso pensate che il trauma cranico di Raymond abbia contribuito alle sue azioni violente il suo cambio di personalità così repentino secondo voi ha influito sulle sue azioni detto questo ragazzi io vi ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato per voi interessante fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso qui sotto nei commenti sappiate che vi leggo tutti anche se a volte non riesco a rispondervi proprio a tutti però vi leggo io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.